Ciao raga, i fan di One Piece di tutto il mondo sono arrabbiati. L'anime è riuscito a rovinare l'ennesima scena epica del manga. L'episodio 1034 doveva rappresentare un momento di estrema importanza per Kid e per il suo inizio dello scontro con Big Mom. Nel manga Kid colpisce Big Mom in questo modo col suo attacco chiamato Punk Gibson. Invece guardate che cosa fa l'anime. Io non ho parole, non ho parole e continuate a difenderlo mi raccomando. Ma la cosa più ridicola è che la Toy Animation recepisce queste critiche e si giustifica dicendo che quell'episodio non è stato animato direttamente da loro ma da uno studio minore. Il Bridge Studio Animation. Il che è ancora peggio perché tu stai ammettendo che la maggior parte degli episodi e soprattutto quelli riusciti peggio non li stai animando tu ma li stai dando a un altro tuo cliente di cui parli male e che allo stesso tempo proprio tu che possiedi diritti cara Toy hai l'obbligo di autorizzare la messa in onda. E se tu guardi l'episodio e dici sì va bene mandiamolo in onda il colpevole sei tu e non lo studio che paghi. E da quando sono su questo social e soprattutto da one in poi che hanno rovinato totalmente l'opera che dico chi guarda solo l'anime non può capire bene One Piece non perché sia stupido ma perché è l'anime che non c'entra nulla con l'opera. Ma vi rendete conto la differenza tra quelle due scene? L'epicità di un mega pugno di Kid che colpisce Big Mom con questo mega attacco e un colpetto del cavolo streaming sito dell'anime? Capite che sono due proporzioni completamente diverse. Però continuate a fare quello che volete e non ascoltate. Grazie a tutti.